Ciao a tutte mie bellissime regine, mie bellissimi regini, benvenuti sul mio canale. In questo brevissimo video oggi voglio darvi un po' di motivazione, se per qualcuno di voi le circostanze esterne non stanno andando esattamente come è sperato o in allineamento con i vostri desideri, ascoltatemi. Quindi, dunque, guarda la circostanza esterna, poi chiudi gli occhi, fai un bel respiro e di questo, non me ne frega un cazzo. Scusate l'eleganza, ma è esattamente quello che devi fare per rilasciare le resistenze. Ti voglio ricordare che tu sei molto, molto, molto più grande della matrix, di qualsiasi illusione del tuo ego e di qualsiasi circostanza esterna. Molto, molto più grande. Quindi non c'è assolutamente niente e la devi smettere di dare il permesso altre di influenzarti negativamente, di lasciare che le altre persone ti proiettino addosso i loro traumi. Quindi, da oggi, ti devi concentrare sull'arte del fottertene, essenzialmente del 3D. Cosa vuol dire? Che mandi affanculo il 3D e ti dici che scegli in questo momento comunque di essere felice. E per quanto ti può disturbare, diciamo così, emotivamente quello che sta succedendo, tu sei più forte di questo. Tu sei più grande, sei infinita consapevolezza. Tu hai un potere immenso. Quindi mettiti la corona in testa, che tu sia maschietto o femminuccia. Vai e goditi la giornata senza lasciare che il 3D influenzi il tuo stato emotivo per più di 5 minuti. Ok? Per oggi è tutto. Vi mando un grosso abbraccio. Spero di avervi motivato. E ci vediamo alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.